Era l'ultimo giorno, anzi no, era già il primo giorno dell'ora solare di quest'anno qui, quest'autunno, l'ora che ti fa dormire un'ora in più, quel giorno bellissimo, io mi sono alzato alla stessa ora, sono andato in montagna, ho finito un'ora prima, ero ai piedi delle Alpi, sono andato in una stazione a Borgo Valsugana, bellissima, è una stazioncina in legno, austriaca, austriacante, col marciapiede in terra battuta, non c'è cemento in giro, arrivo 5 e mezza pomeriggio, guardo l'orario, alle 5 e 24, insomma 5 e mezza, scarsa, ero in orario, 5 e 24, arriva il locale della domenica Bassano Trento, il 55 e 92, sarò arrivato lì appunto 5 minuti prima, neanche, mi preparo la macchina fotografica per fare la foto al treno, così, arriva il treno modernissimo, un minuetto, ma siccome questo è della provincia di Trento, li chiamano Orsetto, vabbè, è sempre moderno, faccio la foto, si ferma il treno, ci sono in due che devono salire sul treno, uno a piedi, uno con la bici, il treno avrà un minuto di ritardo, secondo me 10 secondi li recupera, puntuali, quello senza bici monta, l'altro con la bici si ferma sulla porta, io sto camminando lungo il treno, per andare a fare la foto dall'altra parte, e lo incrocio e mi verrebbe da dirgli, monta perché 20 secondi sono già passati, altri 30 ne hai, sbrigate, ma lui è piantato davanti alla porta, lo scalino è basso, e non sale, e guarda dalla mia parte, ma non guarda a me, guarda oltre, allora io, sempre camminando, ormai sono all'altezza sua, quasi lo incrocio, mi giro anch'io e vedo il controllore che è sporto dal treno, e che fa un segno, ma chiaro, netto, no, tu no, e io dico, perché no, ma no forte, cioè perché adesso si sente, perché ho il microfono, si sente tutto, no, ma allora, io ho detto, perché no, ma no, perché io non sono mica bravo a reagire, distinto, abile, capire, io semplicemente dico, perché no, e poi mi giro e guardo questo qua con la bici, e non so perché, ma glielo chiedo a lui, perché no, tempo che mi giro, che glielo dico, la porta davanti a noi si chiude, e il capotreno davanti, da segnale di partenza, e il treno ci sfila davanti così, Dice, ma aveva la bicicletta? Appunto, siamo in Trentino, è quasi Svizzera, voglio dire, il servizio biciclette è preciso, e magari era pieno, no, ce n'erano altre due sul treno, ne tiene dodici l'orsetto, dico, e allora, sarà mica perché sei l'uomo nero? Ma siccome non può, non può essere così, allora io ho detto, ma forse il capotreno ha pensato che tu non l'avevi il biglietto, e io dentro di me ho pensato, perché quelli come te certe volte non ce l'hanno il biglietto, lui caccia fuori il biglietto dalla tasca, ma lo fa vedere, e io dico, beh, ma hai la bici, la bici si paga un euro in più, sul treno, lo so, perché lo prendo sempre, e allora io mi vergogno. Io non so voi, ma io, una cosa così, io mi vergogno di me, e non so più cosa dire, lui sta zitto un po', poi fa, quasi quasi lo denuncia. Sono cose che le dici, dopo non le fai, perché non era grave, no? Come la chiami questa cosa qui? E ce l'ha un nome, ma è grosso per una cosa così piccola, in fondo era domenica, lui ha preso il treno un'ora dopo, è arrivato a casa un'ora dopo, era lì per lavorare, e lui fa i barattoli dello yogurt del Trentino, alla domenica, e quel giorno lì siamo rimasti a parlare, si chiama H, e lui ha preso il treno dopo. E allora perché lo racconti? perché non è una storia di Capodanno, perché mi è successo davvero, e perché esattamente una settimana dopo, un altro uomo nero, è diventato presidente degli Stati Uniti d'America, io credo che la notizia sia arrivata anche in fondo alle Alpi, alleluia, 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 e allora forse da noi, un uomo nero potrà fare il Capodreno, alleluia, 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 alleluia,